E ciao a tutti amici amici di Andrew Channel, bentornati in un nuovo episodio dedicato a The Sims 4 con il nostro Michelino. Questo è un episodio speciale perché viene trasmesso anche in live su Twitch e ricordo a tutti che dovete iscrivervi anche sul mio canale Twitch, è ovviamente l'episodio dell'appuntamento. La bellissima, elegantissima Rarauo Tio ha accettato di accompagnare il buon Michelino a un appuntamento in questo posto meraviglioso. Adesso abbiamo otto ore prima di iniziare quella cosa tediosissima chiamata lavoro e quindi dobbiamo cercare di fare una buona impressione sulla nostra ragazza. Nel frattempo papà Castoro e Obama ci osservano come se non si fidassero molto di noi. No, non si fidano per niente di noi ma lasciamo perdere, lasciamo che papà Castoro e Obama continuino le loro discussioni. Tudiamo la pausa e andiamo a salutare... No, come? Rallegra... Ho visto già un fai fichi fichi nello stanzino ragazzi, questa cosa devo ammettere, non mi dispiace affatto. Rallegriamo la flor tantissima Rarauo. Ok, abbiamo raggiunto il livello tale carisma. Le facciamo un complimento e poi la portiamo decisamente dentro a mangiare qualcosa. Abbiamo fame, un po' di fame qualcosa sì. Allora andiamo a sederci insieme a questo tavolo. Forza Rarauo, vieni con me. Rarauo sta parlando di... Rarauo fa dei versi abbastanza strani, seguiamola. Seguiamo Rarauo nella sua intellettualità. Seguiamo l'intellettualità di Rarauo, che è esattamente la cosa che ha colpito il buon Michelino. Michelino, sediti al tavolo, ordina qualcosa, dai. Ordina del cibo. Delle patatine fritte. Una ciotola di olive. Una ciotola di olive! Maledettissimo taccagno. Allora, ordiniamo una ciotola di olive da dividere in due. Perché ovviamente Michelino non è che sia così. Wait, wait, stop, stop, stop. Pausa! No, che ripulisci? Lo voglio spostare sta ciotola, posso? Molto bene, guardate le meraviglie di The Sims. E mangia una ciotola di olive sedendoti insieme alla nostra Rarauo. Ah, ma la ciotola è da solo. Cioè, quindi se la prende e la mangia, mentre la Rarauo rimane lì ad osservare. È la persona più romantica che si sia mai... Obama se ne sta andando. È la persona più romantica che si sia mai vista. Attenzione, c'è un cambio di sedie, le olive spariscono. Quanto ami bag di The Sims 4? Chiacchieriamo. Condividiamo idee. Allora, sappiate una cosa. Michelino ha pensato a una idea geniale. Diventare ricco senza lavorare. Gli manca soltanto un dettaglio come diventare ricco. Ma il senza lavorare è già bravissimo. Chiedi se è single. Ehm, scusa un attimo. Questa cosa la dovresti già sapere, Michelino. Lehm è flertante, ragazzi. Ah, la Rarauo è single. Romantico. Battuta di abbordaggio? Mettiamo Gigi Dug, scusate. Io sto ballando. Intanto che Michelino e Rarauo parlano di cose assolutamente inutili, ascoltiamoci questo pezzo di Gabri Ponte di The Sims 4. Era il 2004. No, ok. Sto scherzando. Torniamo a noi. Sembra che ti stia divertendo, Michele. No, mi sto divertendo io. Facciamo una cosa. Offriamole un fiore. L'appuntamento sta andando bene. Abbiamo ancora due ore e mezzo di appuntamento. Le offriamo una rosa. Allora, adesso vi spiego un piccolo trucco per essere romantici. Prima si offre un fiore che si tira fuori dal taschino dei propri pantaloni corti. La ragazza cadrà ai vostri piedi. Dopodiché le si suggerisce Ehi, amica, andiamo nello stanzino a fare fichi fichi? L'importante È la colonna sonora. Gigi D'Agostino e Gabri Ponte. Uno di questi due. Non sbaglierete. Vediamo se funziona. Beh, io non lo so. Lo dico da papà. Però, secondo me, questa cosa funziona. Uh, se funziona. Oh, appena schiacciato C per fare la copertina del prossimo episodio. Attenzione perché Obama sembra... I clienti si accorgono che l'armadio sta tremando. Ma... Che cazzo è Fukushima? No, è Michelino che ci sta dando dentro, in un locale pubblico, in un armadio, direttamente... Cioè, di fronte alle scarinate che porta nei bagni. C'è la gente qui, ci passa ogni tre secondi. È desiderante, ragazzi. È qualcosa di meraviglioso. Eh, l'appuntamento sta continuando, eh. Eh... Eh, ma... Porca miseria! Nuvole! Nuvole che escono dallo stanzino. Allora, Rau esce che è un po' spettinata. Che cosa mi hanno mai combinato? Scusate, stop, 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 stop! Feng. Feng non tromba dal 1994. Feng era innamoratissimo, dirà Rau. E ha appena visto tutto. L'espressione di Feng non verrà mai dimenticata. Torniamo a noi, ragazzi. Allora, l'appuntamento sta andando veramente alla grande. Hey! Altre scelte? Buffo. Aneddoto divertente. Hey, Rau. Ti ricordi di quella volta che c'erano 50 persone in un bar e noi abbiamo scopato in un... Armadio? Ah, certo che mi ricordo! Era 5 minuti fa! Buffoncello. Ragazzi, abbiamo trovato la ragazza ideale. È stupida. È assolutamente disinibita. E sta facendo dei versi con le maniche. Uh. È l'appuntamento più bello che Michelino abbia avuto in tutta la sua vita. Confessa l'attrazione. Confessa l'attrazione, Michelino. È il momento, è il momento. Michelino glielo dice. Guarda, è da quando avevo 6 anni che io speravo di avere una fidanzata. e tutte le ragazze mi davano il 2 di pic. Ma adesso tu sei diversa. È il primo appuntamento e abbiamo ciulato così in pubblico. È una cosa veramente bellissima. Ok, sembra che... Sembra che i due si vogliano molto bene. Mamma, che meraviglia. Ma quando c'è l'amore, ragazzi, c'è tutto. No, cerca di avere un figlio nel cespuglio? No. No. Chiediamo di diventare la fidanzata. Vediamo se in questa fase della vita di Michelino Rarau diventerà la fidanzata. Ma è una cosa bellissima! Rarau accetta! Rarau accetta! Si sono fatti un selfie? Io non ho mai visto una coppia così cringe. Si sono fatti un selfie per dire al mondo che si sono fidanzati dopo questo appuntamento osceno. Scusate. Io questa colonna sonora. Immaginatevi la versione masterizzata di Impiccheranno Giordi di Gavri Ponte. Sì, sì, la bestemmia. Quella fatta sulla vera canzone di Andrè. E questo veramente incorona questo bellissimo momento di cringe, di degrado e di miseria umana. Torniamo a noi. Allora, il buon Michelino ha terminato il suo appuntamento e non vede l'ora di tornare a casa a dormire. Però è innamoratissimo. Vorrei... Scusa. Sta facendo un pisolino sulla panchina davanti ai cessi del locale. Michelino, io ti devo dare una brutta notizia. Fra tre ore devi lavorare, amico. Non puoi fare i pisolini nel bar. Oh, Gesù. Ragazzi, dite... Fate qualcosa. Fate qualcosa, ragazzi. Io mi appello alla chat di Twitch adesso. Che cacchio devo fare? Cioè, ci rendiamo conto del malessere? Va bene. Praticamente potresti trasferirti qui. Tanto, le ciottole di olive non costano niente. La tua fidanzata non ha problemi di privacy, diciamo, e puoi dormire tranquillamente sulla panchina davanti al cesso. Ti puoi lavare i denti in bagno, puoi utilizzare la televisione quando ti senti annoiato. Ehi, ciao, amico. Perché devi tornare nella tua catapecchia? E comunque sì, come qualcuno dice in chat, dormire su questa panchina è la cosa meno scandalosa che ha fatto nelle ultime dodici ore, probabilmente. Michelino, ti devi svegliare. Ti devi svegliare, amico mio, perché fra poco devi andare a lavoro. Fra due ore. Facciamolo dormire ancora una retta. È una cosa che... Ti giuro, io... Michelino, Michelino, che cacchio ho fatto io di male nella vita? Sì, devi iniziare... Cos'è questa cosa? Sbriuli, cico. Una star! Una superstar planetaria! È Judith Ward, famosissima nel ruolo di Giovannona nel film La Soldatessa alle grandi manovre. Allora, andiamo a vedere se possiamo fare un selfie con lei. Chiedi di scattare... Aspetta, aspetta, aspetta... Di scattare una foto a Judith... Svegliati, svegliati, svegliati! È una celebrità, amico mio! Puoi fare un sacco di like su Instagram! Sì, Instagram, volevo dire. Ok, devi andare a lavorare, ma ci sono priorità nella vita, vero? È una star! Ehi, le collegiali, ciao! Wow! Dai, ti prego, fai un selfie con me! Fai un selfie con me! Stai zitta tu, maledettissima teenager! Sì, fantastico! Diventerò famoso utilizzando la tua immagine! Fantastico! Ok, adesso andiamo a postare una storia. Ehi, ma sei single? Non posso fare le scelte, no. Chiedi un selfie! Chiedi un selfie! Chiedi un selfie! Chiedi un selfie! Se facciamo un selfie diventiamo famosissimi! Dobbiamo lavorare fra 13 minuti, ma chi se ne frega! c'è la celebrità! Guardate questo! Guardate questo! Che camicia addosso! È svenuto! È svenuto col culo all'aria! Scusate un attimo! Stop! Stop! Scusate, ma che cacchio è questo? Cioè, questa ha visto la superstar e è venuto un bancamento. È svenuto ed è svenuto così. Io giuro che io questo gioco io lo amo! Io questo gioco lo amo! Facciamo un selfie, ragazzi! Con una superstar planetaria! È pazzesco! Mettiamo un'altra story e andiamo a lavorare! Ma volevo mettere la storia su Instagram e sta già andando a lavorare questo fetente! Vabbè! Vabbè, ragazzi! Io non ho mai avuto nella mia vita un appuntamento così bello! Cioè, io invido la vita di Michele! La mia vita dovrebbe essere come quella di Michele, ragazzi! degli appuntamenti galanti raffinatissimi degli approcci con le superstar planetarie un lavoro appagante in cui posso mettere tutta la mia passione per tre ore Adesso Michelino si trova al lavoro ma molto presto tornerà a casa nel frattempo qui c'è un libro Cattura la preda si chiama No, no, no! Che cacchio succede? Ah, è fuori dalla mia casa! Non lo posso rubare, spero! È tutto fantastico! È tutto fantastico! Allora, rendimento eccellente probabilmente potremmo avere una promozione ma non abbiamo ancora fatto l'incarico che acquistare uno strumento tesoro presso una buona immersione e quindi non penso di poter fare peccato No, merda! Le bollette! Oh, Michelino sarà triste quando tornerà a casa Shit È praticamente come vacchi ma povero Allora, scusate ma Hallan 88 ha appena dato la definizione di Michele Bianchi È praticamente vacchi ma è povero Ha guadagnato 177 simoleon e deve pagare 371 di bollette Beh, è un mondo difficile Guardate che torna con le pinne Appena tornato dal lavoro Nero è pazzesco Ok, abbiamo pagato le maledettissime bollette mettiamo questo libro nell'inventario Squish e Squash Allora, fra 21 ore dobbiamo andare a dormire ci dobbiamo andare a lavorare facciamogli mangiare qualcosa non c'è niente prendi gli avanzi dai qualcosa troverà dai sono sicuro magari cambiarti tipo Allora, per l'ambizione musicale dobbiamo ascoltare la musica per due ore l'abbiamo fatto per un'ora magari, ecco stasera possiamo fare questo Sempre musica elettronica per Michelino Questa volta c'è una Visi Mitico Visi No, questo non è Visi Questo è un incrocio tipo tra Questo faccio un po' fatica Sì, un po' ricordo un Ei Brothers ma ubriaca Ah, che buono il toast con le uova di ieri È bello perché Pietra Migliare è completata Abbiamo raggiunto dobbiamo raggiungere livello 4 con la chitarra e strumare e strumare suonare lo strumento per un'ora con lo stato emotivo ispirato Ok Abbiamo 475 punti Potremmo dargli delle pozioni oppure un tratto acclimatamento al caldo alga sinergica Cos'è l'alga sinergica? Ti trasformi in una sirena No, grazie Benvenuto perenni Sì, che godono è brutto perenni e si comporteranno di più come se fosse la casa propria nell'abitazione Ok Impermeabile Mania ginnica Ma che bello No, vabbè quando arriviamo a 500 qualcosina ci inventiamo Allora Vananna Ci sta È stanco Quindi gli facciamo completare questa giornata con un bel riposo Così l'energia sale e l'indomani magari si fa un po' di sport un po' di sport e poi una bella doccia Le luci automatiche Quanto siete migliori ragazzi Quanto siete migliori ragazzi Anche perché io 371 simole li ho pagati perché non avevo le luci automatiche intanto ci sono i monsoni qua fuori scusate Guardate Guardate dalla stanza di Michelino Vabbè dai Dalla stanza di Michelino non si vede una mazza Però questo è quello che si vede fuori Praticamente i monsoni perenni Ok Ragazzi Sono le 6 di mattina di martedì Presto il ragazzo si sveglierà Si sveglia alle 7 ispirato Wow Gli facciamo fare una bella doccia energica o gli facciamo puzza Va bene ma deve fare sport quindi Pausa No vuole fare la doccia in realtà io dico che vai a fare jogging E' a disagio Michelino a disagio Vabbè lo conosciamo già però perché vai a fare jogging in questo No questa non è la tua non puoi fare jogging con le cavatte Michele Michele ferma Eh I pantaloni lunghi per fare jogging sulla spia Io raga non so non lo so Io non lo so veramente I gabbiani Allora Puzzi in modo incredibile ragazza perché non si lava la 48 ore e adesso sta correndo ed è chiaro che è una cosa che metterà il disagio un po' tutti Magari sì Facciamo una cosa Fai la doccia veloce La doccia veloce dovrebbe dare lo stato energico E quanto manca per la prossima prossima lavoro 10 ore Eh tantissima tantissima roba Va bene intanto che lui si fa la doccia fortunatamente abbiamo il burr perché non vogliamo vedere le nefandezze del suo corpo vediamo che ha ancora un po' di fame d'accordo Scream Michelini messi su Telegram Bene nel canale Telegram ovviamente c'è un progetto che è quello di fare i bot con gli screen scusate sto parlando in una lingua incomprensibile di fare praticamente le immagini di Michelino in tutti i suoi stati emotivi e di assegnarle i vari emoticon per poter fare appunto energico ce l'abbiamo fatta Allora fai una cosa c'è una colazione tipo uove toast così poi se la mangia nei prossimi giorni è un Michelino che fa la colazione è fantastico quindi non vedo l'ora veramente di vedere questi emoticon però chissà chi li farà chissà chi li farà intanto chi non sia ancora iscritto al canale Telegram secondo me si sta perdendo un sacco qui sotto nei commenti ci sono i link ai canali ufficiali che ormai sono il gruppo Telegram e il canale Instagram e la pagina Facebook storica allora intanto che io faccio una marchetta ai miei canali social il buon Michelino ha fatto una porzioncina di uova che mamma mia che bontà perché c'è della musica tipo da film romantico anni 80 cantato da una giapponese mamma mia mi sta salendo il romanticismo no adesso non più vedendo lui che mangia le uova non più allora la fame gli dovrebbe passare rapidamente con questo mappazzone di grassi e proteine infatti lava i piatti usa il bagno datti i denti e siamo pronti per affrontare una nuova giornata che meraviglia ragazzi allora amici e amiche che episodio ci siamo pappati oggi no ma veramente parliamone perché qui sotto nei commenti voglio veramente la vostra opinione secondo voi questo è o non è l'episodio più bello della stagione fino adesso è un michelino che ne ha combinate tante ne ha combinate tante ma è super contento ha un piccolo problema non ha un soldo bucato a parte questo la sua vita è perfetta magari nel prossimo episodio cerchiamo di utilizzare un po' le sue abilità musicali per alzare qualche quattrino tra un momento di non lavoro e un altro e magari riusciamo anche a comprare questo benedettissimo tesoro che ci permetterà di fare un po' di carriera come istruttore di immersioni amici e amiche vi ringrazio per essere rimasti con me iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e ci vediamo alla prossima un saluto